Hai già deciso cosa vorresti fare per il Capodanno? Cosa? Cosa? Tutti voi avete festeggiato il Capodanno senza di me! Alcuni di voi hanno festeggiato il municipio, altri nei ristoranti e addirittura nelle palestre, ed altri invece su un aereo prima di schiantarsi, ma quest'anno festeggerete con me! Io sarò con te, Homer! Senta Flanders, nessun altro? E lei del tuo Riebert? Oh, beh, vorrei tanto festeggiare con te, Homer, ma c'è il coprifuoco dalle 22 alle 5 di mattina, persino il Natale! Inoltre non puoi invitare le persone a casa tua! Ark, dal 21 dicembre al 6 gennaio è evitato spostarsi in altre regioni, tranne per motivi di lavoro e studio! E poi, anche se siamo in zona arancione, non possiamo andare al bar! Volete seguire queste regole invece che infrangerle? Papi, ti prego, resta con noi in casa! Ah, cosa? Ma io ho bisogno di aria capodannesca! Noi possiamo venire con te! Nella città deserta! E' stare sentuto il freddo! E mai chi che farà? Sparerà di nuovo a Mr. Buzz quando ci distroiamo per qualche minuto! Noi! 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 Grazie a tutti.